Per Arezzo il 25 aprile ha un programma piuttosto intenso perché come ogni anno ci ritroveremo alle 8 al parcheggio Pietri per radunarsi e portare attraverso le nostre delegazioni fiori ai scippi e alle lapidi che ricordano i partigiani caduti. E questo sarà un impegno che ci terrà fino alle 10 circa quando inizierà a Villa Severi la marcia Villa Severi-San Polo che anche questo ormai è diventato un appuntamento tradizionale molto significativo. San Polo come sapete tutti è stata forse la strage peggiore che è avvenuta nel territorio del comune di Arezzo, in particolare a poche ore possiamo dire dalla liberazione della città. Saranno ripercorsi i luoghi della strage e saranno fatte delle letture e delle considerazioni riguardo appunto questo episodio tremendo. Proseguirà la giornata con la visita alla mostra che allestiremo sempre lì a Villa Severi che ricorda i luoghi delle stragi nel comune di Arezzo, alcune delle stragi, alcune delle uccisioni perché sono innumerevoli lo sappiamo. I nostri compagni della sezione insieme al Circo L'Aurora hanno voluto immortalare con delle foto artistiche direi alcuni di questi luoghi, i cippi che li ricordano. Stiamo formando una mostra, stiamo allestendo una mostra con delle didascalie che spiegano di cosa si tratta e questo ci servirà per ricordare che cosa è successo nel nostro comune. Poi nel pomeriggio dopo il pranzo ci saranno le celebrazioni, quelle ufficiali che sono state spostate di pomeriggio proprio in occorrenza della visita del Presidente con i soliti appuntamenti al cimitero di Indicatore, al cimitero nostro monumentale, all'altare della Patria qui vicino alla Croce Bianca. E infine la manifestazione finale al Poggio del Sole dove parlerà il nostro Presidente Provinciale Leno Chisci. A Civitella c'è un altro evento importante il 25. Ecco, il pomeriggio del 25 il Procuratore Marco De Paulis presenterà il proprio libro Caccia ai Nazisti. Ci sarà Lampi, saremo presenti perché è un evento anche questo importante, è il modo per ricordare che purtroppo le vittime di questa strage che è una delle più efferate del territorio italiano praticamente non ha mai avuto nessuno che ha pagato. Nessuno ha pagato, pochissimi hanno pagato, pochissimi sono stati giudicati, diciamo che si sono arrivati a giudizio, pochissimi. Pagare non ha pagato praticamente nessuno, per vari motivi. Il principale è perché le persone che erano state condotte a giudizio erano in un'età che la maggior parte erano già morte e sappiamo anche perché. E il Procuratore ce lo spiegherà, gli atti di questi processi sono stati per decenni insabbiati nel famoso armadio della vergogna.